La promessa anticipazioni Le ombre si allungano sui corridoi della promessa e l'innocente Maria sembra vittima di un complotto senza via d'uscita. Chi c'è dietro l'ingiusta accusa che la ha costretta a fuggire dal palazzo? E soprattutto, riuscirà a trovare giustizia? O la verità rimarrà sepolta tra segreti e bugie? Scrivi «sì» nei commenti se vuoi scoprire cosa accadrà nei prossimi episodi e preparati a essere travolto dagli eventi sconvolgenti che sveleremo presto. La storia di Maria è solo l'inizio di una serie di intrecci pericolosi e di amori tormentati. Dopo l'accusa ingiusta di aver rubato un prezioso orologio, Maria è stata allontanata dalla sua vita alla promessa. Ospite nella casa di Ramona, la giovane cerca disperatamente di capire chi abbia orchestrato tutto questo. Manuel, Catalina e Martina sono determinati a riportarla indietro e riparare l'ingiustizia. Ma la Marchesa Cruz è inamovibile. Per lei, Maria non merita più fiducia. E il suo ritorno al palazzo non è contemplato. Quali segreti si nascondono dietro questa rigida decisione? Intrighi, passioni nascoste e un passato che non smette di tormentare i protagonisti della promessa. C'è qualcuno che trama nell'ombra? Chi sta davvero manipolando i fili di questa storia? La tensione sale mentre Feliciano, uno dei personaggi più enigmatici, nasconde un segreto devastante. Dietro la sua aria serena, infatti, si cela un tormento inimmaginabile. Petra, la donna che tutti credono sua sorella, è in realtà sua madre. Nessuno alla promessa conosce la verità, e Feliciano è dilaniato dall'idea di rivelare tutto, rischiando di distruggere la sua futura felicità con Teresa e la fiducia che i marchesi ripongono in lui. Un segreto che potrebbe far crollare tutto come un castello di carte. Cosa succederebbe se la verità venisse a galla proprio nel momento del matrimonio? Come reagirebbe Teresa, la donna che sta per sposare? La tensione cresce giorno dopo giorno, e Feliciano sa che non potrà essere davvero felice finché non affronterà il suo passato. Ma prima di scoprire come andrà a finire questa tormentata vicenda, lascia il tuo commento. Cosa faresti se fossi al posto di Feliciano? Riusciresti a mantenere il segreto? O saresti disposto a rischiare tutto per la verità? Nel frattempo, Simona è assalita dai dubbi. Il suo sospetto che Candela non sia realmente partita per Andar si fa sempre più forte. La sua amica le ha nascosto qualcosa? Simona non può scrollarsi di dosso l'idea che Candela sia fuggita nelle Asturie insieme a Don Carlos, senza mai avere intenzione di tornare. Questa scoperta ha spezzato il cuore di Simona, che si sente tradita e abbandonata. Anche questo è solo uno dei tanti misteri che si intrecciano nei corridoi della promessa. Chi dice la verità e chi mente? E fino a dove arriveranno i personaggi pur di mantenere nascosti i loro segreti? Non mancano neanche le tensioni amorose. Manuel, incapace di accettare la fine della sua relazione con Gianna, continua a tentare di riavvicinarsi a lei. Ma Gianna è determinata a mantenere le distanze. Un regalo lasciato segretamente nella sua stanza riaccende la scintilla del conflitto. Per Gianna, quel gesto è solo un'invasione del suo spazio, una prova che Manuel non ha accettato il distacco. Manuel, invece, lotta disperatamente per non perdere la donna che ama, anche se tutto sembra suggerire che il loro legame sia ormai spezzato. Ma in un universo dove tutto sembra ruotare intorno ai segreti e ai sentimenti più intensi, l'amore può davvero morire così facilmente? Scrivi nei commenti. Cosa pensi del gesto di Manuel? Trovi che abbia ancora una speranza con Ana? O è troppo tardi? In mezzo a tutte queste emozioni turbolente, Vera riesce a portare un raggio di luce. Con il suo primo stipendio, decide di fare un regalo a ciascun collega del palazzo. Un gesto semplice ma carico di significato, che riscalda i cuori di chi vive ogni giorno sotto la pressione degli intrighi e delle tensioni. È come se, con la sua bontà, Vera avesse acceso una luce di speranza nel caos che regna alla promessa. Ma nonostante questo gesto toccante, la tensione dietro le quinte continua a crescere. Lorenzo e Margarita sono sempre più convinti che Geronimo e Pelaio nascondano qualcosa di grosso. Il furto dell'orologio sembra essere solo la punta dell'iceberg. E le loro indagini stanno rivelando un complotto molto più grande. Riusciranno Lorenzo e Margarita a smascherare Geronimo e Pelaio prima che sia troppo tardi? E infine, cosa ne sarà di Maria? La sua innocenza è chiara a chi la conosce. Ma le prove contro di lei continuano a montare. C'è qualcuno che trama nell'ombra per farle del male. E le persone a lei più care stanno cercando di scoprire chi sia. Ma basterà il loro coraggio per svelare la verità? La storia è tutt'altro che finita. E presto i nodi verranno al pettine. Le risposte stanno per arrivare, ma sono destinate a sconvolgere le vite di tutti i personaggi della promessa. Se vuoi saperne di più e non perdere gli sviluppi più intriganti, scrivi «Voglio il seguito» nei commenti e preparati a essere travolto dagli intrighi di questa affascinante saga. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sui prossimi video e lasciare un «mi piace» se ti sono piaciute le nostre anticipazioni. Ma sarà davvero possibile riportare Maria alla promessa? O è ormai troppo tardi per la verità? Non perdere il prossimo episodio, dove gli eventi prenderanno una piega ancora più inaspettata. E ricorda, alla promessa, niente è mai come sembra. Mai. Grazie. Grazie.